In ognuno di noi c'è una vocina interiore flebile ma molto persistente che ci indica la via dell'individuazione. Questa voce interiore è tensione, non è raggiungimento. Tant'è che laddove un'idea si cristallizza, attingendo ad una sorta di paradisiaca onnipotenza, siamo in presenza di un dogma, il vero nemico della conoscenza psicologica. In psicologia dovete sapere che l'unico dogma è che non esistono dogmi. Da qui nasce il rispetto per l'individualità, quindi la soggettività, e da qui nasce il coraggio dell'asserzione anche impopolare. La lucidità nel sapere chi siamo e cosa vogliamo. Coloro i quali sono riusciti ad esprimere in modo creativo la loro dimensione interiore hanno sperimentato il richiamo proveniente dalle profondità dell'anima e hanno vissuto quella che in psicologia si chiama l'apertura. Quando si abbandona tutto ciò che si è costruito per volgersi verso altri orizzonti si dà ascolto a quella vocina interiore che è frutto di una elaborazione creativa della sofferenza. Quello che ad un osservatore esterno può apparire è il risultato di coincidenze fortuite e invece il risultato di un lungo lavoro psicologico proprio sulle proprie ferite. Sì, ma si tratta di decisioni difficili perché non si ha mai la certezza che quella che stiamo per intraprendere sia la strada giusta, cioè la nostra. E allora ci si affida all'intuizione. Nessuno può aiutarci in questa scelta. Anzi, la vera e più ardua lotta siamo spesso costretti ad ingaggiarla con coloro che ci circondano, per i quali il nostro agire rappresenta un severo monito e come un mutuo riprovero. L'ostilità e la sfiducia con le quali vengono accolti i nostri tentativi somigliano a volte ad una sorta di silenzioso complotto, il cui scopo è quello di impredirci di intraprendere la nuova scelta. E invece noi, rispondendo ad una vocina interiore e non ad una scelta standardizzata, per la prima volta ci comportiamo dei individui che quindi si distaccano dai parametri del collettivo per obbedire solo a quella vocina. Nel video precedente ho affermato che il conflitto con le norme collettive comporta il delinearsi dell'individualità. Dobbiamo sempre avere coscienza quando ci incamminiamo su una strada nuova, coscienza appunto delle difficoltà che ci attendono e dobbiamo sapere che verrà frustrato un bisogno naturale il desiderio di appartenenza ad un gruppo. Un giglio o una rosa sono esemplari nella loro interezza e allo stesso modo ognuno dispone di un suo personale percorso. Vedete, è importante per noi psicologi essere consapevoli di questo perché è l'aver percorso la strada che ci compete, che consentirà di accompagnare gli altri lungo il proprio cammino. E allora noi nella vita incontriamo dei maestri che ci condurranno però per il tratto che corrisponde al limite raggiunto da ognuno di loro. Queste figure si susseguiranno durante il nostro percorso, così come Virgilio e Beatrice conducono i momenti successivi il viaggio di Dante. Quella che io ritengo essere la vera difficoltà del percorso individuativo è che siamo costretti a confrontarci, a scontrarci con un tipo di potere anonimo, il cosiddetto collettivo. Il nemico è dato da una serie di norme e di divieti che si respirano nell'aria. Queste leggi ci condannano e sono difficili da affrontare perché sottilmente, in maniera quasi velenosa, la loro presenza non fa altro che toglierci dalle spalle la responsabilità della nostra vita. Le leggi costruiscono il nostro alibi, ovvero il nostro essere altrove rispetto a noi stessi, la nostra distanza dall'interiorità e quindi da quella vocina. Ma lo sforzo di liberazione e quindi di crescita psicologica che ognuno di noi deve produrre è quello di infrangere queste tavole della legge per affermare la legge della responsabilità individuale. Nel momento in cui accetto di vivere seguendo il mio dettame interiore, sottoscrivo un impegno di assoluta responsabilità. La de-responsabilizzazione, al contrario, non permette di giudicare criticamente ciò che viene detto, perché si avvale di affermazioni che non permettono di affrontare le situazioni caso per caso, ma solo alla luce del pregiudizio. L'educazione che riceviamo non consente in genere di sviluppare una posizione critica nei confronti degli eventi e questo è confermato dal fatto che molti pazienti parlano attraverso luoghi comuni ed evidenziano opinioni stereotipate. E allora? Tutto il lavoro analitico consiste nel far cadere questi pregiudizi e consiste nel portare la persona a valutare la realtà secondo il suo criterio individuale. L'acquisizione di queste capacità non appare certo facile perché costringe il soggetto ad esporsi in prima persona. La situazione di continua osservanza di ciò che viene dato dall'esterno, come diciamo opinione, è appunto definita conformismo. La persona conformista è quella che appunto si conforma alle regole. Naturalmente non sto professando un anticonformismo ad oltranza, completamente avulso da qualsiasi opportuna considerazione della realtà. Come ho già ribadito in altri video precedenti, esistono delle esigenze di adattamento da cui non si può prescindere. Però dobbiamo tenere conto che noi siamo bloccati nei giudizi di valore e in particolar modo in quelli che hanno a che fare con i sentimenti. Se però il mio sentire si scosta con ciò che la legge prescrive, io devo avere il coraggio di seguire la mia strada, abbandonando il conformismo e aprendomi alla creatività. Potremmo dire che se vogliamo sviluppare la nostra creatività dobbiamo anche combattere il nostro conformismo. La persona conformista è un ripetitore di opinione. Ai tempi di Freud il disagio nevrotico era considerato un non senso. Tutti i medici di allora consigliavano ai loro pazienti di intraprendere viaggio all'estero, di sposarsi, di fare figli e cose del genere. Freud, ed in questo consiste appunto la sua genialità, comprese che si poteva trattare il problema in maniera diverso ed ebbe il coraggio di farlo. Nel 1896, con alcune sue famose relazioni ad un convegno di medici, Freud propose un modo completamente nuovo di intendere il disagio nevrotico. Poi sono dovuti passare cento anni perché questo pensiero venisse assimilato. Tuttavia, nel momento in cui una concezione, per quanto eversiva, entra a far parte del pensiero comune, rischia ugualmente di diventare conformista, se noi non ci poniamo criticamente di fronte ad essa. Tutto ciò che esiste, scriveva Engels, è degno di perire. Così interpretava la celebre tesi di Hegel, secondo la quale tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. E lo faceva applicando le regole del ragionamento hegeliano. La tesi hegeliana appariva ad Engels una legittimazione e una consacrazione filosofica dello stato prussiano, quindi del dispotismo, della censura e quindi dello status quo. Ora, nessuna realtà storica può godere a lungo del sigillo della necessità. Ad esempio, la Repubblica Romana era reale e tuttavia non meno reale si dimostrò l'impero che venne a soppiantarla. Allo stesso modo, continua Engels, la monarchia francese era diventata nel 1789 a tal punto irreale che dovette essere distrutta dalla rivoluzione. Ogni realtà storica, quindi, è transitoria e allora anche le tesi di Hegel dovranno trasformarsi nel suo contrario e, di conseguenza, le tesi di Hegel della razionalità e di tutto il reale si trasforma nell'altra che abbiamo citato in precedenza, e cioè nella tesi secondo cui tutto ciò che esiste è degno di perire. Qui possiamo anche verificare una delle nozioni più care a Jung, che lui derivò in qualche modo da Eraclito, e cioè la nozione di enantiodromia. Si definisce enantiodromia quella legge psicologica secondo la quale ogni cosa corre in direzione del suo opposto. Questa legge governerebbe i cicli naturali della vita a tutti i livelli. Ma in particolare cosa significa questo? Significa che dobbiamo essere consapevoli del fatto che quanto è stato detto e operato in tempi passati appartiene alla storia e che noi dobbiamo procedere senza rimanere ancorati a tutto ciò. In altre parole, la persona non conformista, la persona che accetta di essere creativa, è sempre una persona inquieta. Non dispone mai di un punto fisso a cui ancorarsi. Io sostengo che è preferibile evitare questi ancoraggi ed è preferibile quindi pensare in maniera dinamica, essere sempre un po' inquieti di fronte a ciò che si afferma. Ovviamente questo è anche l'atteggiamento che chi ascolta dovrebbe assumere nei confronti di ciò che io sto dicendo. Una situazione del genere però è pesante da sopportare perché ci procura una continua tensione, mentre il conformismo è una comoda amaca su cui abbandonarsi. Basta però un momento di rilassamento e quello che diciamo o pensiamo può rivelarsi di nuovo un pregiudizio. Quindi l'essere creativi, l'essere attenti, implica continuamente la nostra presenza. E questo è proprio l'atteggiamento che io propongo. Non è detto che si debba essere sempre così allerta, però è bene che bisogna essere consapevoli del fatto che il conformismo va naturalmente contro ogni dimensione creativa. Ora, in cosa consiste questa dimensione creativa? E torniamo con questo al discorso iniziale. Una dimensione creativa è solo possibile in noi se cerchiamo la nostra individualità. Se si intraprende un viaggio alla ricerca della propria dimensione interiore, la creatività diventa un atteggiamento necessario perché non esisterà più niente di scontato. Un tempo, quando qualcosa prendeva fuoco e non se ne capiva il motivo, fu coniato un termine, il termine di floggisto. Un oggetto prende fuoco perché si brucia una sostanza che è nella cosa stessa e che si chiama appunto floggisto. Poi però ci fu qualcuno che non convinto di questa spiegazione, ed era un anticonformista, un creativo, cosa fece? Affermò che gli oggetti si incendiano per altri motivi. Ciò che incendia in realtà è una combinazione di ossigeno e di idrogeno. Questo signore che in seguito perse la testa si chiamava Loa Vasier. L'appartenenza ad un gruppo, come ho già spiegato in un altro video, è una tendenza naturale. L'appartenenza a se stessi diventa un fatto innaturale. Perciò sviluppare la nostra dimensione creativa è in fondo una violenza, un andare contro natura, perché è naturale sentirsi parte di un gruppo. È naturale organizzare tutti i i medesimi universi di discorsi e affidare la propria vita al collettivo. Per chi organizza i mass media queste cose sono acquisite e già sperimentate da tempo. Dunque possiamo concludere che soltanto pochi scelgono la via dell'individualità. E si tratta di una visione del mondo che rimanda ai tesori dell'interiorità. Kierkegaard scriveva che attraverso il singolo, attraverso la singola persona si scrive la storia dell'umanità. Infatti il tempo e la storia non significano molto. Ciò che conta è la consapevolezza dell'individuo. E questo su un piano psicologico significa che non tutti riescono ad accettare di non appartenere ad un gruppo. Il gruppo ci sostiene ed è anche vero che certe grosse evoluzioni di pensiero, soprattutto quelle che attengono ai mutamenti di costume, molte volte non possono essere affrontate dal singolo. Ma se il singolo si trova in una comunità molto piccola, da solo non ce la potrà mai fare perché verrà schiacciato. In queste circostanze è necessaria una maturazione collettiva che però richiede tempi molto lunghi. Se noi viviamo in un clima di relativa libertà, questo accade perché molto tempo prima i nostri predecessori hanno compreso l'importanza di questo valore e per questo avranno pagato di persona. E allora vorrei concludere questo discorso dicendo che per Heidegger la presenza corrisponde ad un venire all'aperto. Perché qualcosa venga all'aperto però occorre corrispondere la nostra apertura. Come potremmo infatti aspirare all'aperto se aperti non siamo? Il che, tradotto in termini psicologici, significa che dobbiamo diventare consapevoli. E allora, come scriveva Bergson in una lettera inviata a William James, più rifletto, più mi convinco che la vita è dall'inizio alla fine un fenomeno di attenzione. E anche Rollo May analogamente ha sostenuto che la creatività è caratterizzata dall'intensità della consapevolezza e ha parlato di una coscienza ipersensibilizzata. E allora concludiamo che essere consapevoli significa essere eterni in un momento del tempo. Chi studia musica sa che le sonate di Bach erano in larga misura sconosciute perché non essendoci possibilità di comprensione, proprio a livello collettivo, sono state dimenticate per 200 anni. Questo significa che in ogni momento accadono dei fenomeni il cui significato non può essere per noi intellegibile, subito. Ma soltanto nel futuro capiremo il valore e l'importanza di questi eventi. Bene, io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche oppure via mail. Per cui se volete richiedermi una consulenza psicologica dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473, specificando il nome, il cognome e gli orari preferiti. Inoltre potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 350 video raggruppati in varie playlist. Sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo.